Si sono presentati in 350 per contendersi il titolo di voce siciliana dell'anno. Solo i più bravi si esibiranno di fronte a tre giudici straordinari con Giucas Casella, Cecilia Gayle e Peppe Arezzo Emanuele D'Angeli conduce Una voce per la Sicilia Il 9, 10, 11, 12 settembre alle 20.20 su Teleone, canale 16 e in diretta su tutti i social Eda Communication. Bello, mi chiedo di stare sullo spazio. Una produzione Eda, Communication and Events.